. Tennis, a Pumago, niente da fare per Lorenzi, Rubliff domina la finale. Pumago. . Rubliff succede a Fognini, il 35enne senese, numero 34 del mondo e quarta testa di serie del tabellone, ha ceduto di fronte al giovane russo Andrei Rubliff, numero 74 del ranking ad, ripescato in tabellone come Lucky Loser. . L'ultimo italiano a vincere il torneo resta quindi Fabio Fognini nel 2016, proprio un anno fa. . Il russo vince in due set, il 19enne Moscovita, alla sua prima finale nel circuito maggiore, si è imposto su Lorenzi col punteggio di 6-4-6-2, in un'ora e 17 minuti di gioco. Per l'italiano si trattava della quarta finale. . 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